La messa in rete per usi liberi, anche commerciali, dell'insieme, del patrimonio delle immagini, di un patrimonio culturale pubblico, farebbe sì che queste vengano di fatto sottratte al mercato. Perché nel momento in cui sono a disposizione di tutti, nessuno se ne può appropriarle, tutti possono liberamente usarle. Diciamo che se si entra in questa ottica, si capisce che la battaglia per la liberalizzazione delle immagini diventa una battaglia di democrazia della cultura. Per a tu per tu, con la conoscenza aperta, intervistiamo il professor Daniele Malacorta, già ordinario di metodologia della ricerca archeologica all'Università Roma III e membro del CDA del Parco archeologico del Colosseo. E' autore di saggi e numerosi contributi sulle politiche del patrimonio culturale italiano, nei quali, tra l'altro, difende la libertà di ricerca scientifica e la libera circolazione dei dati. Professor Malacorta, sul numero di dicembre del Giornale dell'Arte, lei sottolinea l'opportunità di liberare il riutilizzo delle immagini di beni culturali pubblici. In particolare, ha criticato le prese di posizione del sindacato francese contro la decisione di alcune istituzioni, tra cui i musei comunali di Parigi, di autorizzare il riuso delle immagini dei beni culturali per qualunque scopo, compreso quello commerciale. ci aiuta a capire meglio che cosa è successo in Francia e perché, a suo avviso, ha senso sostenere il libero riuso? E' presto detto, in Francia succede che un sindacato, con tutto quello che succede al patrimonio culturale, pensa che un problema importante sia quello di togliere la possibilità ai cittadini francesi di godere delle immagini del loro patrimonio culturale e Dio non voglia addirittura di usarle. Dietro a questa presa di posizione, che sa molto di vecchio, c'è il timore che mettendo in rete milioni e milioni di immagini di un patrimonio pubblico, ci sia poi qualche colosso della comunicazione globale tipo Google che possa farci un suo profitto privato. In realtà il problema non c'è, nel senso che milioni di persone usino quotidianamente in tutto il pianeta Google Earth gratuitamente o leggano su Google Books dei libri che sono ancora introvabili, naturalmente è un beneficio per la cultura e non è affatto una svendita del patrimonio. Quello che invece conta dire è che la messa in rete per usi liberi, anche commerciali, dell'insieme, del patrimonio delle immagini, di un patrimonio culturale pubblico, farebbe sì che queste vengano di fatto sottratte al mercato. Perché nel momento in cui sono a disposizione di tutti, nessuno se ne può appropriarle, tutti possono liberamente usarle. Diciamo che se si entra in questa ottica si capisce che la battaglia per la liberalizzazione delle immagini diventa una battaglia di democrazia della cultura. In Italia il Museo Egizio di Torino è l'unico ad applicare alle immagini in rete licenze Creative Commons che consentono il libero riutilizzo delle immagini anche per fini commerciali, peraltro le stesse utilizzate da Wikimedia. A parte questa esperienza, si nota una generale diffidenza da parte degli istituti culturali del nostro paese preoccupati per il venir meno di possibili introiti dalla vendita dei diritti sulle immagini in rete. È un rischio concreto, secondo lei? È vero esattamente il contrario. Per fortuna sono molti ormai nel mondo le istituzioni culturali che mettono liberamente in rete le immagini anche ad alta definizione del proprio patrimonio. In Italia abbiamo l'esempio luminoso del Museo Egizio. Poi ne hanno innanzitutto un ritorno di immagini e non parlo del ritorno culturale di comunicazione e diffusione della cultura che questo prevede. Se noi andiamo a vedere i conti, ci rendiamo facilmente conto che gli introiti che la mano pubblica, che l'amministrazione pubblica ricava dalle concessioni d'uso delle immagini sono degli zero virgola all'interno del bilancio del patrimonio culturale. Minime sono in generale gli introiti da concessioni, ma la maggior parte degli introiti da concessioni, che non superano il 3% di quanto introita l'amministrazione pubblica in questo settore, sono da concessione di spazi, di cose, non di immagini. Le immagini sono veramente una cosa del tutto marginale e naturalmente c'è una distinzione che andrebbe fatta, ma non possiamo fare adesso, ci porterebbe lontano, che una cosa è dare in concessione in uso un bene materiale che se uso io non userà qualcun altro in quel momento e quindi c'è quella che si chiama una rivalità nell'uso e quindi è giusto imporre un canone di pagamento. Quando io metto in rete liberamente un'immagine, quella immagine a disposizione anche di altri nel momento stesso in cui la uso io, senza contare che la messa in rete delle immagini produce cultura, produce creatività e produce quindi lavoro e produce ricchezza, ricchezza pulita. E tutto ciò si trasforma poi in introiti anche per la finanza pubblica dal punto di vista della fiscalità generale, perché aumenta l'attività produttiva. E anche, non dimentichiamocelo, così forse si dà un'interpretazione più realistica dell'articolo 9 della nostra Costituzione, tante volte stiracchiato da tutte le parti, che nel comma 1 dice che una delle funzioni principali della Repubblica è quella di diffondere la cultura. Diffondiamola gratuitamente e lasciamo che su questa si produca ricchezza e creatività. C'è però chi ritiene che la perdita di controllo sulla diffusione delle immagini possa danneggiare il decoro, il prestigio dei monumenti pubblici. Pensiamo all'immagine del Colosseo, riprodotta serialmente su bottiglie di birra o pacchetti di sigarette. Lei non si scandalizzerebbe? Non mi scandalizzo neanche se vado al Cinema Colosseo, all'Hotel Palatino o alla Trattoria Fontana di Trevi. Per fortuna i nomi non sono ancora proprietà di nessuno e mi auguro che non lo siano neanche le immagini. Io mi scandalizzo semmai delle bestialità che sento dire in questo campo, perché il codice urbani, il codice dei beni culturali, certamente vieta usi non compatibili con il carattere storico, artistico e con il decoro del patrimonio culturale, ma intende dire che non si può recare pregiudizio alla loro conservazione, quindi agli aspetti materiali. Io non posso danneggiare un bene materiale. Ma se entriamo nel tema delicatissimo dell'uso che io faccio dell'immagine di questo bene, noi forse non ci rendiamo conto di quale strada spinosa cominciamo a percorrere. Si sente dire che bisogna prevenire la banalizzazione del patrimonio culturale oppure che bisogna impedire che si faccia un uso non corretto. Ma banale rispetto a che? Corretto rispetto a che? Ma specialmente domandiamoci chi mai dovrebbe decidere se l'uso che io faccio dell'immagine di un patrimonio culturale sia o non sia consona con il suo decoro, ma lo decide la politica? Per fortuna non siamo in uno stato autoritario di carattere etico. Lo decide la pubblica amministrazione, un funzionario in una stanza, in base a quale codice, a quale repertorio di comportamenti? Lo decide la magistratura? Dobbiamo quindi tradurre tutto ciò in un grandissimo contenzioso? Stiamo parlando di principi fondamentali della manifestazione del pensiero che sono per fortuna tutelati dalla Costituzione. Si dice che bisogna evitare un uso che non sia degno del patrimonio. Ma che cosa significa che non sia degno del patrimonio? Mi viene in mente che cento anni fa in Italia si è tolto il barocco a centinaia di chiese per tirar fuori il Medioevo perché quell'architettura è ritenuta non degna della qualità del patrimonio. Mi viene in mente che quattrocento anni fa un genio dell'arte come Bernini chiese di demolire il marsoreo di Cecilia Metella perché gli servivano le pietre perché quella rovina non era degna di stare in piedi. Che cosa è la dignità e il decoro? Esistono forse dei principi assoluti fuori del tempo di questo. Duchamp nel 1919 se non sbaglio prese una fotografia della Gioconda li mise dei baffi e sotto li mise pure una didascalia anche francamente volgare. Sembra volgare ancora noi oggi cento anni dopo figuriamoci cos'era cento anni fa. Era un uso non degno, non decoroso? C'è chi dice beh ma quella è arte. Eh sì è arte ho capito ma chi decide che una cosa è arte o non è arte? Insomma a chi dovremmo dare questo immenso ingratissimo compito di stare a fare le pulce a come una società intende utilizzare il proprio patrimonio culturale? Ci saranno dei rischi? Qualcuno ne farà un uso volgare? Bene si metteranno in campo delle argomentazioni che ne dimostrino l'uso possibilmente inadatto. Noi abbiamo un articolo l'articolo 21 della Costituzione che ci garantisce la manifestazione libera del pensiero e penso che nessuno abbia voglia di cedere di un centimetro rispetto a questo a questa prerogativa e che quindi bisogna stare molto attenti quando si entra su questo campo che la medicina con cui si vuole curare questo presunto male dell'uso non consono del patrimonio culturale rischia di essere molto più rischiosa se è letale del male che vuole curare. Veniamo al Ministero dei Beni Culturali. Nell'ultima bozza di riorganizzazione è stata rilanciata l'idea della Digital Library per gestire l'attività di digitalizzazione del patrimonio e poi la successiva pubblicazione in rete delle immagini. Non si potrà eludere il tema delle licenze d'uso. c'è qualcosa che si sentirebbe di suggerire a questo proposito? Una maggiore attività nel campo dei diritti delle libertà. Abbiamo detto delle libertà dell'uso anche per finalità commerciali del patrimonio culturale. La Digital Library è una splendida occasione di innovazione all'interno di un ministero che di innovazione ne ha molto bisogno e quindi molto dipenderà dalle figure dirigenziali che andranno poi a governare questo passaggio molto delicato nell'amministrazione. Li direi che però ci sono anche altri elementi di libertà. Un elemento di libertà è quello di liberare il nostro ministero da questa specie di condanna che si è autoattribuita di dover gestire tutto lui. Il nostro codice indica due forme di gestione del bene culturale diretta e indiretta. Dove sta scritto che la gestione diretta debba essere la gestione normalmente applicata e quella indiretta quella casualmente e straordinariamente applicata? Cerchiamo di capire che le enorme quantità di patrimonio culturale che abbiamo in Italia forse ne traerebbe grande vantaggio da una dismissione specialmente per le parti più neglette più abbandonate quelle che non sono sotto i riflettori continui del turismo culturale internazionale se venisse data agli elementi più vivaci più innovativi più creativi della società civile ad ogni livello. Questa sarebbe una grande battaglia che peraltro non farebbe altro che interpretare il comma 4 dell'articolo 118 che è l'articolo che regola e indica i principi della sussiderietà sia verticale che orizzontale e che in Italia è veramente molto poco applicato. continuo a non capire perché la sussiderietà venga poi considerata un bene quando è applicata in campo sanitario in campo sociale o in campo ambientale se si deve applicare in campo culturale scatta un meccanismo per cui i profani devono stare fuori dal tempio perché tanto ci pensiamo noi. Per ultimo vi direi che c'è un'altra battaglia di libertà che è quella che richiede il cambiamento dell'articolo 88 e 89 del codice urbano e quelli che oggi attribuiscono al Ministero dei beni culturali neanche allo Stato la Costituzione parla di Repubblica finora era attribuito allo Stato la conduzione di ricerche archeologiche e dal 2004 questa funzione è attribuita addirittura al Ministero. Io lo trovo veramente una cosa insostenibile costituzionalmente molto poco difendibile perché limite in maniera grave anche la libertà di ricerca che invece è sancita da un altro articolo costituzionale che è il 33. Quindi penso bisogna uscire da un regime di concessione e trovare delle formule che portino almeno gli istituti e gli enti di carattere pubblico come le università e altri enti di ricerca ad essere riconosciuti come soggetti operanti nel campo della ricerca archeologica se non altro perché hanno anche un compito fondamentale di formazione e questo si può fare finalmente mettendo a uno stesso piano a uno stesso tavolo i rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica si era cominciato a fare in fine dell'ultima legislatura si riprenda in mano quel progetto perché è un progetto di cui abbiamo veramente bisogno.